Presentata la stagione culturale 2023-2024 di Cannobbio tra teatro, eventi culturali e cinema, in particolare il teatro parte il 21 di ottobre con un nome fortissimo, quello dei Legnanesi. Sì, una bellissima stagione teatrale sulla direzione artistica di Paolo Crivellaro, aglietterà i cannobbiesi e tutte le persone che verranno a trovarci per tutto l'inverno. Partiremo con i Legnanesi, come hai detto tu Laura, e poi ci concentreremo sulla ciliegina sulla torta, una commedia brillante, ospiteremo Giovanni Vernia in capa fresca, un bellissimo appuntamento, un grande solista. Ospiteremo Andrea Fratellini, comico, ventriloco, cantante e illusionista. Inoltre chiuderemo la stagione con Vicini di casa, una commedia brillante con Amanda Sandrelli, Giorgio Alberti, Alessandra Ciai e Alberto Giusta. Imminente la partenza della campagna abbonamenti per il teatro. Sì, partiamo lunedì con la campagna abbonamenti del teatro e non ci saranno più abbonamenti a numero chiuso, però lasciamo aperto a numero limitato di abbonamenti. Anche quest'anno Cannobbio propone una stagione teatrale, ma più in generale culturale, importante. Quello che appunto il cannobbiese si merita, perciò ci vuole una stagione teatrale e culturale importante. E la soddisfazione più grossa è che siamo riusciti a partire anche con il ballo liscio, perché tante la richiesta, tanti sono gli amanti del ballo liscio a Cannobbio. Siamo riusciti a recuperare una saletta sopra il teatro, a ingrandirla, perciò appuntamento un giovedì al mese, a volte ce ne sono anche due, con il ballo liscio dove saremo noi dell'amministrazione a gestire la cosa e a divertirci insieme, a ballare liscio insieme a chi verrà. A partire dal 12 ottobre.